Juventus Napoli 2-1 finisce qui, Iguain si prende la rivincita ma dobbiamo dire che sinceramente parlando Juventini o non ha vinto la squadra che ha giocato peggio perché il Napoli, vabbè con il gioco di Sarri ormai si sa in confronto a Legri non stiamo neanche a parlarne, cosa dire molto velocemente, il Napoli ha espresso molto più della Juve, i gol alla fine se li prendiamo come episodi sono stati arrivati da due errori, il primo un liscio di Goulam clamoroso che ha spalancato la porta Bonucci, nemmeno l'avesse fatto apposta un assist così non l'avrebbe mai trovato e il secondo praticamente un'azione, un forcing da Juventus, palla rispinta e trova Iguain casualmente che sentenzia la sua ex squadra, e vabbè non esulta ma lì non stiamo a parlare di meriti o demeriti, non ne parliamo. Allora Sarri ha messo in campo sinceramente una squadra già con Diavara sorpreso abbastanza tutti, la Juve con quel 3-5-2 sempre rimasta con la solita formazione, ha fatto giocare Hernanes per preservare quello che Marchisio, insomma tutti gli infortuni che si portava dietro, quindi scelta mediamente giusta perché poi Hernanes in campo alla fine del primo tempo i Juventini avrebbero fucilato, fucilato perché per gli errori che faceva a centrocampo disattenzioni assurde. Poi cosa succede? Si infortuna Chiellini, cambia la partita, difesa 4 per la Juventus, entra praticamente Quadrado che dà alla squadra una formazione diversa perché si mettono a 4 dietro e il Napoli ha più spinta sulle fasce perché sono più liberi di attaccare col 4-3-3 in confronto a un modulo che praticamente con Quadrado cambiava aspetto perché difesa 4, a sinistra avevamo solo Sandro che spingeva e non avevamo il supporto doppio sulla destra sia di Quadrado che di Liechtenstein e quindi equilibri un pochino venuti a mancare, infatti poi il gol nasce da un'azione, da un cross sulle fasce dove la Juventus nasce appunto dal settore di sinistra dove la Juventus era in inferiorità numerica, a mio parere quindi quel cross che ha sorpreso tutti ed è arrivato il gol, soprattutto una bella azione subito dopo il gol della Juventus, quindi a testimonianza che il gioco del Napoli ha prodotto qualcosa ed è stato premiato perché, diciamolo veramente, ancora la Juventus per quanto riguarda il gioco, se date a Sarri una squadra del genere, in questi fenomeni, con tutto quello che può creare la Juve avrebbe fatto sicuramente meglio a mio parere. Poi vabbè, entra Jaccherini prima del gol di Higuain che credevo sinceramente potesse fare meglio, poi è entrato il Caduri solo dopo il 2-1, mentre la Juventus dopo ha fatto entrare anche Marchisio e si è vista la qualità, insomma rispetto a Hernanes, anche lì è arrivato più ordine in campo, ma sono sempre io a dire che Marchisio nella Juventus è sempre fondamentale ogni partita che c'è, non c'è poco da fare. Poi vabbè, Sturaro entra giustamente dopo il fine della partita quasi per sistemare le cose, per mettere un muro con Chedira e un giocatore più fresco perché Hernanes in fase di non possesso non c'era, però diciamo la Juventus che allunga più 5 in attesa della Roma, anche se credo che risponderà con una vittoria contro l'Empoli, però il campionato non finisce qui, Juventini, per c'è da poco da dirlo, anche io da tifoso lo dico, perché sì, il gioco può avvenire, però qua certe volte quando vinci c'è anche un buscio de culo, si può dire, qui non è che sono arrivati i gol da delle perle dei nostri attaccanti, anche perché vabbè il nostro riferimento che crea azioni e gioco è Dybala, poco da dirlo, è una Juve Dybala dipendente solo per il gioco, da qualità quel giocatore c'è poco da fare, Dybala e Mandzukic, scusate, Iguain e Mandzukic fanno una coppia molto diversa lì davanti, più fisica ma poco di lavoro, costruzione e devi affidarti dei giocatori che ti fanno qualità e quello era Pjanic, ma Pjanic ancora rimane assente. Niente, Juventini, allora appuntamento a mercoledì con Juventus-Lione per chiudere sto qualificazione del girone che veramente dobbiamo terminarla lì, puoi andarci a prendere a Siviglia il primo posto e non sarà semplice, il Napoli invece dovrà andare in Turchia martedì, dopo la trasferta di Torino andare in Turchia, non è semplice solo per il girone che si sono complicati, quindi niente, che dirvi da qui, arrivi tutto, ci vediamo mercoledì con Juventus-Lione, bella ragazzi!